Signor Sindaco, signor Presidente della Regione, cari Ministri, autorità tutte, Roberto, Mario, Rettori, amichi e amici del Human Technopole. Vedo che siamo felicissimi del tecnopole umano, se abbassiamo le luci a un livello più umano... no, infatti volevo aprire un referendum su questo Lombardo. Ieri è uscita una notizia abbastanza strana che a me è piaciuta moltissimo, ce l'ha raccontata l'Accademia della Crusca. Un bambino di otto anni, di Ferrara, ha scritto insieme alla sua maestra, alla sua insegnante, e dobbiamo dire brava alla sua insegnante, oltre a quel bambino, una lettera all'Accademia della Crusca. Ovviamente l'idea di scrivere l'Accademia della Crusca, immagino, sia venuta all'insegnante, ma quel bambino aveva scritto una parola, aveva coniato una parola, una parola petaloso, che l'Accademia della Crusca, dopo una lunga discussione tra i propri grandi esperti, ha ritenuto essere una parola che deve entrare nel vocabolario italiano. E allora, quella parola, ieri i social della Crusca, e anche questo la dice lunga, i social network della Crusca hanno rilanciato la notizia, e la parola petaloso è entrata dentro il grande vocabolario della lingua italiana, coniata da un bambino di otto anni. Beh, questo progetto è un progetto petaloso. Questo progetto è un progetto che ha più di un ambito di azione, è un progetto che davvero possiamo definire con questa espressione. Tre mesi fa, quando siamo partiti, c'era anche qualche ma, qualche beh, qualche bo, anche qualche bu. Non dico che li abbiamo eliminati tutti, anche perché sarà il tempo a verificare la qualità del percorso che egregiamente Roberto ha disegnato qualche istante fa. Ma devo dire che vorrei innanzitutto cominciare dalla gratitudine per coloro i quali allora dissero beh, ba, ma, bu, e che oggi dicono ci stiamo. Ci stiamo per fare che cosa? Ci stiamo per fare un grande progetto nell'area Expo, certo. Noi abbiamo il trionfo dell'Expo alle spalle, vogliamo dare un futuro a quella scommessa. Ma ci stiamo anche e soprattutto in questo progetto così ampio e variegato per dire che l'Italia vuole il meglio. La sintesi finale è che l'Italia vuole il meglio, punto. Vuole il meglio perché merita il meglio e perché è in grado di avere il meglio. Naturalmente è una sfida complicata, difficile, il mondo non è che sta a guardare, naturalmente ci sarà da competere a livello globale, naturalmente ci sarà da concretizzare nel più stretto arco di tempo immaginabile tutti le slide che abbiamo visto. Ma quello che sta accadendo in questo Paese, finalmente, dopo anni in cui abbiamo rivisto a ribasso ogni nostra ambizione, è che la potenzialità, la possibilità di avere il meglio per noi e per i nostri figli, finalmente è messa in cantiere. Non c'è più come in passato l'idea vabbè, lo scetticismo prevale, la sfiducia alla meglio, la rassegnazione continua a dominare, non c'è più questo. Quando uno lancia un progetto sfidante, alto, ambizioso, vediamo che siamo nelle condizioni di poterlo realizzare. Per farlo, però, voglio essere molto chiaro, c'è bisogno dello sforzo di tutti, da parte del Governo innanzitutto. Quello che Cingolani ha cercato di dirci a noi del Governo è che vorrebbe sapere qual è la rata del T0. E io sono qui per rispondergli, perché se tre mesi fa eravamo ospiti del Piccolo Teatro, e di nuovo la mia gratitudine, non ripeterò le parole che dissi allora, ma il sentimento di emozione e di gratitudine è lo stesso. Se tre mesi fa ospiti del Piccolo Teatro ci avevamo presi l'impegno di presentare a stretto giro il progetto, beh, adesso credo che dobbiamo prendere il compasso, puntarlo per i prossimi tre mesi. Oggi siamo alla fine di febbraio, entro la fine di maggio, e vederci non più qui, non perché al piccolo si stia male, anzi, ma perché credo che la prossima volta l'incontro, Carlo Roberto, vada fatto nell'area Expo. E quindi di conseguenza per noi quello è il T0. I primi denari di finanziamento che avevo annunciato una settimana dopo il nostro annuncio sono entrati in legge, in un decreto legge, i primi 150 milioni. La stabilità decennale di quello parlammo, per dare un segnale di stabilità nel tempo, è pronta. Noi siamo pronti a renderla legge e testo, quindi non abbiamo nessun tipo di difficoltà in questo senso. La presenza qui, accanto al Ministro Martina, a cui va la mia gratitudine del Ministro Giannini, significa valorizzare con grande forza che tutta la comunità accademica universitaria della ricerca italiana si sente parte di questo progetto, poi nelle forme e nelle modalità che vedremo. Non più tardi di qualche giorno fa eravamo proprio insieme a Stefania nel festeggiare i due anni di governo al Gran Sasso, ai laboratori del Gran Sasso, all'INFN, ne so che poi il professor Ferroni ha parlato con Cingolani, per dire uno dei grandi istituti, io sono assolutamente certo che dal Gran Sasso prima o poi estrarremo un Nobel, ma quello che deve essere chiaro è che il progetto dell'Human Technopole deve vedere tutte le grandi realtà, i grandi centri d'eccellenza connessi e assolutamente decisi a raggiungere l'obiettivo e da questo punto di vista evidenzio con forza come sia importante il riferimento fatto al CNR, al suo nuovo presidente e a tutta la struttura che lo guiderà. Dunque poche chiacchiere, tre mesi fa era un sogno, oggi è un progetto, tra tre mesi deve essere un cantiere. Io avverto grande domanda, eravamo con Rasetti qualche giorno fa, lo avete anche visto nelle slide che sono state evidenziate, dico un nome ma potrei citarne tante altre, delle grandi aziende private che abbiamo incontrato, con IBM Mondo abbiamo discusso e c'è una forte richiesta da parte loro di far parte di questo progetto e noi siamo ben felici di verificare se da qui alla fine del mese di marzo riusciremo a chiudere il protocollo d'intesa per poter coinvolgerli in questa grande partita. E vale per altri leader, la volta scorsa avevo appena incontrato il CEO di Apple, proprio qui l'abbiamo rivisto, Tim Cook e anche da parte dei grandi player mondiali c'è una richiesta di far parte della sfida, ma la linea di fondo deve essere semplice. Qui vogliamo il meglio, qui non ci accontentiamo niente di meno che del meglio. Lo facciamo a Milano, lo facciamo a Milano perché questa città è nelle condizioni, lo abbiamo detto, di guidare il cambiamento in Italia. Vorrei dire che non è soltanto nelle condizioni, ha la responsabilità morale di guidare il cambiamento in Italia e sotto questo profilo il governo si sente impegnato parte di una sfida comune delle istituzioni in questa direzione. Non abbiamo perso un passaggio fino a questo momento e non intendiamo perderlo nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. La condizione però è che si abbia il coraggio di alzare l'asticella delle ambizioni. Se siamo il secondo Paese per longevità al mondo dopo il Giappone, vogliamo essere il primo anche perché, si è detto con il massimo rispetto, da noi si vive meglio, quello che ci deve caratterizzare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi è una fame senza fine di progetto credibile, concreto, costruttivo e contemporaneamente di un progetto che sia nelle condizioni non necessariamente di far riportare i cervelli a casa. Perché se c'è una cosa che secondo me è un valore, è naturalmente un cervello che torna a casa, ma è altrettanto un valore un cervello che se ne va. Perché l'idea che la globalizzazione debba vedere le frontiere alla ricerca, al sapere e all'innovazione, è un'idea che ha segnato per vent'anni un fallimento dell'Italia. Non è detto che chi se ne vada faccia male e non è detto che sia un errore raccontare sempre e comunque l'Italia come il posto da cui la gente se ne va. Perché le nostre istituzioni, i nostri centri di ricerca sono pieni di talenti che vengono dal mondo intero. E se nel team che ha scoperto le onde gravitazionali, la parte più rilevante accanto ai due laboratori americani viene da Cascina, fatelo dire da un fiorentino che parla bene dei pisani per una volta, è evidente che c'è una qualità diffusa delle nostre istituzioni, dei nostri centri di ricerca che va semplicemente messa a fattore comune. Però c'è bisogno, e su questo vado rapidissimamente a chiudere, anche di un racconto diverso di quello che noi siamo. Il governo è spesso accusato di essere impegnato in un'opera di diffusione di ottimismo che per alcuni assume i contorni della propaganda. Mai frase è stata così infelice e falsa. Il punto vero è che l'Italia è un paese che ha delle risorse straordinarie e che ama compiacersi in un racconto totalmente negativo di ciò che noi siamo, valorizzando sempre e comunque ciò che ci manca. Vorrei essere chiaro, se la valorizzazione di ciò che noi siamo diventa inno per rimanere statici, strumento per non cambiare, argomento per perdere la voglia di futuro, beh allora io credo che questo sia un errore. Ma se la consapevolezza di ciò che siamo è lo strumento per potersi finalmente togliere di dosso le energie negative, la polvere, le tossine di una politica sempre polemica e poter finalmente rimettersi in moto e guardare a quello che ci attende da qui ai prossimi anni, beh vi rendete conto che il progetto che avete visto prima è un grande progetto, è un progetto che può diventare paradossalmente il progetto più intrigante dei prossimi anni in Europa, è il progetto che può diventare lo strumento per il quale diamo un messaggio ai nostri connazionali italiani e ai nostri concittadini europei e cioè diamo il messaggio che il futuro che ci aspetta non è un futuro fatto di vincoli, parametri, regoline, è un futuro fatto di valori, di ideali, di strumenti di innovazione, l'Europa o è questo o smette di essere qualcosa, l'Europa o è la capacità di tenere insieme la curiosità, l'innovazione e il futuro o non è più. Allora questa è la sfida, la sfida è esattamente questa, per me Human Technopole ha i soldi perché sono pronti, ha le autorizzazioni, credo sia nelle prossime ore la conclusione del complicato iter di ingresso nelle varie compagini azionarie, ha i talenti e le energie migliori, ha gli strumenti per poter ottenere semplicemente il meglio, niente di meno che il meglio, ha una città che è per vocazione la città che può accogliere il meglio ed ha una grande fame da parte dei cittadini che in questo progetto credono, non perché magari conoscono nel dettaglio la genomica, io mi perdo alla settima slide tra le varie differenziazioni che ci sono e che Roberto con pazienza tenta di illustrarmi o perdo la testa quando mi spiegano i big data, ho capito di quando magari ci dicono anche i risultati delle prossime elezioni, ma questo è meglio non saperlo prima in generale diciamo, però il punto vero è che questo progetto è bello perché è un progetto che è nelle condizioni di dire all'Italia dai facciamola finita con questo atteggiamento remissivo e con questo atteggiamento rinunciatario, rimettiamoci a fare quello per il quale siamo famosi nel mondo, io in quest'ultima settimana sto girando perché abbiamo preso l'impegno di uscire un po' di chino di più dai palazzi romani e stare un po' più a spasso per l'Italia, vi dico soltanto la mia agenda che può entrare nel vostro chi se ne frega show, ma che è la dimostrazione di che cos'è questo paese, siamo andati sotto nei laboratori del Gran Sazzo e abbiamo visto non soltanto migliaia ricercatori, il 70% stranieri, ma abbiamo visto delle scoperte che potranno far parlare di sé per i prossimi vent'anni, come ci ha educato a fare la citazione che Maurizio ha fatto di Umberto Eco. Siamo stati in una piccola fabbrica, nel pomeriggio stesso un'azienda creata da un fabbro di Chieti e che oggi ha 450 dipendenti fa il 99% di business di fatturato all'estero. Siamo stati questa mattina a Lodi, in un'azienda familiare che credo sia al 41esimo anno di attività, che ha messo la prima pietra di un nuovo stabilimento, che ha assunto lo scorso anno, anche grazie al Jobs Act, a 180 persone e che continua ad essere una delle aziende leader in Europa e nel mondo, nel settore dei cosmetici. Siamo poi arrivati a Milano e abbiamo dato il via alla Fashion Week con alcuni tra i più grandi nomi della moda italiana, i più grandi nomi della moda italiana e i talenti giovani, che sono quelli che potranno raccogliere questo testimone e dimostrare che questo non è un settore soltanto per addetti ai lavori, ma è un pezzo dell'economia vitale. Ed oggi siamo qui, insieme a voi. Se smettiamo di piangerci addosso, l'Italia torna a fare quello che sa fare. Human Technopole, dunque, è un progetto concreto, richiede degli impegni, ci sono. Vi dice che noi siamo pronti ad andare avanti a portarvi ovunque nei nostri viaggi e nelle nostre missioni, ma è anche uno straordinario stimolo, perché Milano guidi il cambiamento in Italia e perché l'Italia torni a fare ciò di cui è capace, vale a dire essere leader e non soltanto essere uno dei tanti, essere capace di indicare una strada all'Europa e non soltanto di essere impelagata in discussioni e che educa anche la politica. A dire che nei prossimi due anni, da qui alle elezioni, discutiamo, poi ci sono le elezioni locali, ci sono tutte le questioni, discutiamo sempre di tutto e di tutti, ma sui grandi progetti del sistema paese, tutti insieme, avanti tutti, perché questa è davvero l'occasione per poter restituire al nostro paese l'energia, il coraggio e l'entusiasmo che merita. Grazie, buon lavoro, ci vediamo entro maggio nell'Area Expo Arro. Grazie mille. 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 Grazie a tutti.